Gli strumenti che utilizziamo, quelli computazionali, sono sicuramente di grande importanza nel comparto farmaceutico e di conseguenza anche in quello nutraceutico. Hanno come scopo quello di accelerare il processo di identificazione dei composti bioattivi cercando di trovare delle scorciatoie fra il ligando la sostanza bioattiva e il target di natura farmacologica. Quindi possono essere di grande aiuto anche per chiarire il motivo per il quale alcuni nutraceutici hanno un'azione biologica magari sconosciuta. Il cibo sicuramente è la prima medicina dell'uomo ed è tutto sommato una scoperta di diversi millenni fa perché già Ippocrate e anche Galeno avevano chiaramente individuato nella nutrizione, quindi nei principi attivi che noi assumiamo attraverso la dieta il principale rimedio è anche il miglior modo per prevenire delle malattie. Quindi questo aspetto credo sia assolutamente importante rivalutarlo e nel futuro è molto probabile che accanto ai farmaci, che sicuramente restano imprescindibili nella terapia, vi sia sempre di più prevenzione attraverso le tecniche proprio di scientifiche legate ai nutraceutici. Quindi l'importanza di valorizzarli con l'approccio più rigoroso possibile. E tra questo quindi anche quello della drug discovery che è un pochino l'approccio col quale le aziende farmaceutiche sono riuscite in passato a introdurre nel mercato dei farmaci salvavita.